Oh, mi dispiace per Timmy. Non riesce a condividere niente. Mi sa che è un po' difficile per tutti. Questa è una buona idea per il mio primo desiderio. Pronti, ragazzi? Pronti, Chloe! Io vorrei che a Deamsdale tutti condividessero qualche cosa! Oh, ma com'è bello, Chloe! Un desiderio che renderà finalmente il mondo un posto migliore. Condivisione. Ho voglia di condividere la mia motosega. Grazie! Ok, Fata Robot, sono pulito! Adesso uno spuntino, dammi della pizza! Mal funzionamento, mal funzionamento, mal... Sono Cetubecai, queste le ultime notizie. Come per magia, a Deamsdale tutti vogliono condividere le proprie cose. Passando ad altra, questo orribile tipo con la maschera vuole la mia scrivaniglia! E a me non dispiace affatto! Oh, Timmy! La diavolessa che abbiamo in casa ha condiviso con me dei consigli di bellezza! E lui ha condiviso i suoi soldi! Non dirlo a mia moglie! Oh, che carino che sono! Guardarmi dai brividi! Avevo già visto mio padre con un vestito, ma non l'avevo mai visto con di chi i soldi! E io all'improvviso ho voglia di dare via i miei videogiochi! Aspetta! Ho voglia anch'io di con di chi! Che cosa succede? Cosmovanda! Non è che Chloe ha espresso un desiderio da Santarellina, vero? Ha chiesto qualcosa di veramente splendido, che tutti abbiano il desiderio di condividere! Oh, non può finire bene! Grazie per la macchina, gentili signori Turner! In cambio vi lascerò mia madre! Sono stato dotato del duro della condivisione! Grazie per la macchina!